La notte delle stelle, la notte in cui si vuole sognare. Il Napoli ospita il Milan nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. La squadra, allenata da mister Luciano Spalletti, deve ribaltare il risultato dell'andata, quando il Milan si è in posto con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Ben Asser. Ora però il Napoli può contare su uno simen in più, il quale sarà a disposizione e giocherà dal primo minuto. Intanto nella notte un piccolo gruppo di tifosi è andato a disturbare il sonno del Milan, ricandosi sul lungomare di Mergelina e intonando cori pro Napoli e naturalmente contro i rossoneri. Intanto allo stadio è attesa una vera e propria bolgia. I prezzi poco popolari del presidente Laurentiis non hanno spaventato i tifosi, che saranno presenti in Masta per l'appuntamento ritenuto più importante della stagione. Vincere contro il Milan sarebbe un'iniezione di fiducia per la semifinale di Champions League, nel caso in cui arrivasse il Napoli, se arrivasse appunto in semifinale di Champions, dovrebbe affrontare presumibilmente l'Inter e quindi in questo caso un'altra italiana sulla rutta di Istanbul. Insomma un Napoli pronto, un Napoli carico e che quindi si prepara al meglio per una sfida interessante, entusiasmante e sicuramente emozionante. Grazie a tutti.